larghezza del bacino anche un po' di più moleggio destra e sinistra punta a punta spalla a spalla ricordate sempre accompagno la spalla e su e anche ritorno su e giù già inizio un po' anche a muovere la caniglia punta e appoggio punta e appoggio tutti e due su, giù su, giù bravissimi, ruoto bene indietro 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 sempre umbilico dentro cerco di aprire le spalle non spingo il capo in avanti sempre belli alti, belli in su bravissimi ruoto le spalle in avanti cerco di un po' in avanti in avanti bravissimi stop con le gambe in avanti indietro in avanti indietro sollevo le spalle sollevo le spalle ispirando a basso inspiro porto su altri due ultimo bravissimi apro bene le spalle unisco dietro le scapole umbilico dentro non spacciare su, guardo su, su e spiro e spiro e spiro giù il capo chiudo le spalle in avanti inspiro e spiro e spiro e spiro e spiro e spiro e aggiungo il braccio uno sale guardo su giù apro, apro bene la cassa toracica apro bene le spalle fuori l'aria giù cambio il braccio su e giù inspiro e spiro inspiro e spiro su giù su, su, su e giù ancora una volta per l'alto ultimo bravissimi incrocio le braccia in avanti piego leggermente le gambe non scendo giù con la schiena leggermente le gambe piego su tutti i due braccia mi apro bene inspiro e spiro scendo giù incrocio le braccia inspiro su, apro lo sterno vai in avanti in su pancia in dentro e in dentro e fuori l'aria e otto sette cercate di cambiare anche incrocio delle braccia una volta che scendano sei cinque quattro tre due uno porto su e vado su una gamba appoggio il monocodale sempre su una gambetta ok scendo di nuovo su sull'altro oh belli dritti come ballerini eh giù e su giù ogni volta cambio la gamba di appoggio eh giù e su giù e su ancora sei su cinque quattro bravissimi tre cerco di restare almeno un secondo due su eh due uno stop stop braccia fletto stendo fletto stendo umbilico sempre dentro addome attivo quattro cinque sei sette otto molto bene scendo di nuovo con braccia incrociate vado da l'altra parte su 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 fermi 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 otto fletto stendo sette sei cinque quattro tre due uno pronti scendo di nuovo e vado da l'altra parte scendo e su 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 piedi sempre attivo bene radicato per terra vado a circondurre le braccia indietro circondurco bene su inspiro espiro dietro chi proprio non ce la fa stare su una gamba appoggia un attimo il piede per terra la punta del piede chi riesce continua a stare sempre su una gamba tre quattro cinque cerco di salire sempre più in su quattro tre due uno scendo giù salgo d'altra parte su e via otto sette sei cinque quattro tre due uno di nuovo di nuovo centro incrocio le braccia salgo su e apro le braccia scendo incrocio salgo dall'altra parte su sempre il lavoro su equilibrio scendo salgo porto il genocchio in avanti su giù 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 su giù su giù giù schiena bella dritta su ultima volta e mi fermo mi fermo mi fermo disegno dei cerchi con il genocchio ricordate che la gamba di appoggio leggermente piegata disegno disegno i cerchi abbasso bene le spalle non salgo su con un lato sempre queste linee che cerco di tenere stessa linea eh su su resisto 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 bravissimi di nuovo vedo scuota al centro e vado d'altra parte su e cerchietti in fuori espiro espiro quando faccio il movimento sento quattro tre due e uno bravissimi e solgo un attimo vado su e giù vado su sulle punte e scendo giù sui talloni cercate di ruotare adesso bene pianta del piede ruoto ruoto pianta del piede sempre mobilità della caviglia ginocchia non bloccate sono leggermente piegate bravissimi e porto le mani dietro la nuca cerco di aprire più possibile i gomiti apro più possibile le toracce spingo i gomiti indietro tenendo le spalle abbassate salgo sulle punte come prima e scendo sempre ruotando cerco di mantenere la schiena bella dritta le scapole sono vicini vicini dietro si toccano addome bello attivo bravissimi mezzo squat salgo su e vado di nuovo in appoggio monopodalico sempre su una gamba ok scendo vado dall'altra parte scendo inspiro espiro su ginocchio scendo inspiro espiro su scendo e su gomiti aperti 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 scendo scendo su scendo su schiena dritta mezzo squat mezzo mezzo proprio appena accennato mi fermo mi fermo da una parte abbasso le braccia porto indietro intreccio le dita abbasso ancora di più le spalle abbasso abbasso pancia dentro stendo la gamba caviglia punta su punta su punta giù cerco sempre allungarmi bene in alto mobilità della caviglia sempre punta su punta giù spingo nel frattempo con le braccia cerco di abbassare bene le spalle bravissimi sciolgo un attimo la posizione vado mezzo spuntino e vado da altra parte hop intreccio dietro le braccia le dita scusate spingo le spalle verso basso il capo verso alto addome dentro stendo la gamba punta tacco punta tacco pancia dentro ricordate l'allineamento spalla a fianco altri due e sto di varie con le gambe più larghi del bacino un po' più larghi del bacino scendo sulla gamba sinistra portando sul braccio destro cambio subito vado dall'altra parte facciamo da un lato inspiro da un lato espiro da un lato inspiro dall'altro espiro fletto fletto la gamba destra la gamba destra dritta la gamba sinistra dritta ok inspiro espiro espiro Spiro, espiro, ancora tre, scendo, 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 giù, ultimo, e mi fermo, stop, appoggio la mano libera sulle costole, spiro, abbasso la spalla, pancia dentro, sulle costole, devo sentire, ispirando col naso, di creare più spazio tra le costole, ricordate abbiamo fatto in palestra? Faccio bene, ispiro, sento che le costole si aprono, ispiro, si chiudono e sento leggera tensione sotto, ispiro, 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 ispiro. Ancora due, ultimo, cambio, vado d'altra parte, su, appoggio la mano libera sulle costole, abbasso la spalla, sempre l'uno verso l'altro, sempre addome contrato. Ben, ispiro, 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 ancora due, ultimo, Benissimo, tutti e due gambe piegono, tutti e due, tutti e due, porto il braccio destro in avanti, sinistro di lato, ispiro, spingo bene la scatola sinistra dietro vicino alla colonna, ispiro, porto il braccio in avanti, cambio, il braccio destro, ispiro. Scatola tocca la colonna, ispiro, ispiro, non ho fatto il busto, non faccio la torsione, spalle sono belle basse, un braccio a volta, porto bene indietro, ispiro, ispiro in avanti, cambio. Ispiro, ispiro, ispiro in avanti, quattro, cambio, tre, cambio, due, cambio, uno, e ultimo cambio. Bravissimo, giù le braccia, chiudo, chiudo, chiudo le gambe. Andiamo indietro con la gamba sinistra, fare piccolo affondo e portando su le braccia, tutti e due, piccolo affondo indietro, porto su tutti e due i bracci, di nuovo apro bene le spalle, torraccio va bene in avanti, ombilico in dentro, ispiro, 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 su il ginocchio, su, 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 sempre la gamba sinistra, destra rimane ferma, sempre di appoggio. Inspiro, inspiro, piccolo affondo indietro, espiro, su il ginocchio, inspiro, espiro, ancora cinque, poi ci faremo otto ripetizioni, uno, e fuori, ancora quattro, e fuori. Muori, tre, due, uno, e giù cambio. Passetto, passetto, passetto con la destra indietro, su, noi in alto troppo la schiena, sempre allungandosi in su, inspiro, espiro, inspiro, espiro, sei, 5, 4, 3, 2, 1, e giù cambio. Torno con piedi in appoggio tutti e due sotto le anche, mezzo scuolo di nuovo, e le braccia, un po', un braccio porto in alto, altro in basso, allungo, allungo, inspiro, ombilico dentro, espiro, cambio, inspiro, espiro, cambio, e via 8. Cambio, cambio, 7, cambio, 6, cambio, 5, coccigi verso basso, spinge il capo verso alto, cambio, 4, cambio, 3, cambio, 3, cambio, 2, cambio, 1, cambio, su tutti e due braccia, su, su, giù le spalle, bacino, bacino, antiversione, retroversione, inspiro, espiro, ubbilico bene dentro, inspiro, espiro, mi allungo, mi allungo, però in alto, gli altri, unlock, inspiro, un po', impiro, ed espiro, vado in retroversione, ancora 6, 5, 4, 3, 2, e 1, bravissima, e sciolgo, come va? tutto bene? scioglio 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 scendo un attimo col capo piego leggermente le ginocchia rilasso e rilasso il capo guardo la spalla a destra guardo la spalla a sinistra guardo la spalla a destra guardo la spalla a sinistra bravissimi pian pianino inizio a scendere prima il capo gambette sempre piegate scendo scendo una vertebra a volta espirando portando l'ombilico sempre in su in su in su in su l'ombilico bello inspiro giù e ispirando risalgo una vertebra a volta su 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 facciamo un'altra volta su inspiro vediamo come scendete espiro il tappo una vertebra a volta scendo 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 inspiro giù e ispiro risalgo molto bene prendiamo i cappettini in ginocchio in ginocchio in ginocchio in ginocchio la gamba destra con tutto il lato ok vado con il braccio destro scendo a sinistra scendo a sinistra attivo sempre bene l'addome e ritorno scendo ritorno espiro in ginocchio in ginocchio in ginocchio in ginocchio in ginocchio ombilico dentro dentro hop ancora tre hop hop due ultimo rimango allungo 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 faccio qualche respiro e ritorno bravissimi cambio la gamba sinistra facciamo più basso l'allume la gamba sinistra ombilico dentro spalle lontane dalle orecchie scendo e ritorno e ritorno espiro scendo cerco di creare una retta e ritorno ancora sei ritorno cinque ritorno quattro un e ritorno due e ritorno ultimo rimango faccio qualche respiro bravissimi, ritorni ok? apro bene le braccia apro bene le torace le spalle respiro scendo verso il tallone faccio bene la curva con la schiena inspiro salgo su apro espiro scendo e rotondo ognuno scende dove riesce su inspiro espiro su inspiro espiro ancora due su giù su bravissimi di nuovo la gamba destra fuori braccio sinistro per terra stacco la gambetta destra con punta ballerina chi fa male pulsi può mettersi sul pugno ok? apro bene la spalla pancia in dentro controllo che sia in linea la punta del piede il ginocchio e la mano di appoggio pancia dentro 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 la gambetta sale e scende sale e scende uno espiro espiro su due tre quattro guarda che bravi cinque sei sette otto sette sei cinque quattro tre due uno bravissimi bella spinta e ritorno su hop cambio la gamba sinistra scendo sulla mano destra o sul pugno pancia dentro metto dentro spalla aperta punta ballerina sempre allungando la gambetta su uno espiro su due tre quattro cinque sei sette otto sette sei cinque quattro tre due e uno e su ah sciolano molto bene bravissimi quadrupedia quadrupedia le mani sotto le spalle però vado un po' indietro con le ginocchia le ginocchia non sono sotto le anchi vado indietro cammino cammino indietro ok bravissimi mani sempre sotto le spalle umbilicco dentro faccio mezzo plank mantengo la posizione bene bene umbilicco tiro dentro non devo sentire nessun fastidio sul patto lombare le ginocchia bene indietro il capo spinge in avanti resisto dieci resisto nuove otto spingo le scapole verso i glutei sette sei cinque quattro tre due inizio inizio a scendere piegando le braccia cercando di tenerle sempre vicino al busto e scendo giù bravissimi ok le mani sempre rimandano lì dove erano sotto le spalle appoggio fronte sul tappettino spingo bene le spalle indietro gomiti indietro spingo stacco la fronte del tappettino mantengo questo allungamento le gambe spingano indietro il capo in avanti non dovete salire troppo su appena stacco fronte del tappettino mi allungo mi allungo respiro 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 bravissimi da qui adesso stendo le braccia lungo e fianco non appoggio per terra pare le per terra bene indietro indietro e ritorno giù proviamo saliamo ancora pronti su e mantengo la posizione per qualche respiro sempre allungandosi allungandosi il capo in avanti vieni bene indietro mi allungo mi allungo mi allungo respiro 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 e giù molto bene appoggio le braccia candeliere candeliere sono piegate vedete le braccia si vedono ok sempre abbasso le spalle vado un pochino appoggio fuori e appoggio fuori fuori l'aria inspiro porto le braccia appena stacco dal padimento e ritorno e ritorno inspiro e spiro lavora sempre parte alta della schiena parte bassa non esiste proprio rilassata su giù ancora quattro solo le braccia giù ancora tre giù due uno e giù bravissimo salgo un pochino un pochino col pacco e col busto cerco di mettere i gomi e di sotto le spalle chi riesce chi non riesce tiene un po' più largo chi sente fastidio non dovete avvertire fastidio sulla schiena spingo un pochino in su e in avanti la spinge stendo stendo bene la schiena vai in estensione le racchide con gomi ti sembra che devo spingere il tappetino verso il verso il bacino invece col capo cerco di scappare spingo spingo in avanti scapole verso i glutei mi allungo mi allungo mi allungo non in su allungo in avanti bravissimo scendo e mi metto sul lato guardate controllate riga del tappetino la riga del tappetino così siete bene dritti ok allungo il braccio sotto appoggio il capo la gamba sopra la mano davanti l'addome ombilico bene dentro guardate il mio tallone già non tocca l'altro quindi devo allungare di più spingo 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 finché non arrivo un tallone sopra l'altro allungo 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 porto la gamba su in alto altezza del bacino altezza della spalla non di più punta ballerina scendo tallone piedi a martello lentamente punta ballerina sale piedi a martello scende la gamba sotto sempre bella dritta sempre anche questa che si allunga punta su tallone giù punta su tallone quando scendo allungando allungando sempre ancora punta tallone punta tallone sette sette e otto stop uguale leggermente in avanti finché riesco mantenere la schiena balladritta e ritorno con tallone in avanti con la punta ritorno con tallone in avanti con la punta ritorno con tallone riusciamo hop e hop ancora cinque punta tallone umbilico dentro dentro quattro tallone tre tallone due e uno bravissimi voi potete girarvi così io per vederli mi metto sull'altro lato movimento sempre piccolo perché avendo la gamba sotto bella dritta dobbiamo lavorare tanto di più per restare in equilibrio cambiato lato ok controlliamo siamo tutti in linea col tappettino si allungo 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 finché non arrivo posizione che sia tallone che si toccano punta e a ballerina bravissimi sale con la punta altezza del bacino della spalla e torno giù con il piede a martello su e giù piedi a martello su e giù su e giù allungo anche gambetta sotto ancora quattro tre due uno bravissimi in avanti dove riesco ritorno con tallone in avanti con la punta ritorno con tallone più difficile tenere equilibrio sei cinque quattro tre due e uno bravissimi posizione supina pancia in su mani mani dietro la nuca gambe piegate salvo su con capo le spalle non appoggio adesso tutti i piedi due piedi appoggio soltanto due punte dei piedi solo le punte appoggiate solo le dita espiro 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 due gambetta 90 gradi punta ballerina adesso topo con la punta cerco di non perdere angolo 90 gradi topo con una punta scendo con un'altra punta salvo su di nuovo e su scendo una altra su una su altra dama mantengo sempre un belicolo dentro schiena appoggiata sul tappetino mi raccomando non perdo angolino 90 gradi colpaccio non tocca mai coscia pronti respiro non tratteniamo mai respiro scendo scendo salvo salvo scendo scendo salvo salvo io ci amo giù giù su su giù giù su su giù giù su 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 ancora ancora due su 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 ultima su e scendo giù porto ginocchia al petto al torace rilasso rilasso un attimo bravissimo stendo due gambette in su punta ballerina mani dietro la nuca bene inspiro espiro salvo su con capo le spalle ombelico dentro e ritorno espiro salvo su e ritorno giù inspiro espiro giù e ritorno ancora sette sei cinque quattro tre due e uno bravissimi abbraccio di nuovo tutti e due prossimo esercizio allungo la gamba destra in avanti ma in su non parallele per terra circa 45 gradi altra gambetta tengo con due mani porto su e abbasso di nuovo a 45 gradi su e abbasso su e abbasso aspettatevi guardo benissimo punta 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 schiena non si muove respiro respiro ancora quattro così andiamo a dieci tre due uno e cambio abbraccio ginocchio destro allungo la gamba sinistra ricordate sempre il tratto cervicale metto dentro è ferma la colonna su e giù su giù respiro allungo allungo piedi a ballerina allungo allungo ancora sei cinque quattro tre due e uno bravi tutti due al petto divare con le ginocchia però i piedi sono uniti divare con le ginocchia e chiudo apro e chiudo faccio esercizio di mobilità per le anche chiudo apro chiudo chiudo ancora quattro tre due e uno ultimo esercizio le gambe piegate porto a terra ispirando porto le braccia bene indietro mi allungo 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 il mento verso lo sterno espiro porto le braccia allungo i fianchi ricordate che a difficoltà di mobilità della spalla arriva dov'è limba senza sforzare e ritorno facciamo otto ripetizione ispirando mi allungo mi allungo espiro ritorno inspiro espiro ispirando punto fino a quattro espiro cerco di contare fino al sei spiro spiro addome sale espiro addome scende spiro uno due tre quattro espiro ritorno sei cinque quattro tre due uno ultime ultime due volte su respiro inspiro fino a quattro espiro punto fino a sei ultima volta spiro su e bravissimo mettiamoci sul fianco ci sediamo spiro ci siamo gambette sono piegate metto le mani sul cavo profilio inspiro stendo bene le vertebrae espiro bella cico la colonna ombilico dentro 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 inspiro su estendo estendo la schiena e espiro allotondo allotondo ancora due in fuori ultimo fuori fuori e estendo le gambe rilascia ben inspiro su scendo in avanti tutto rilassato con le gambe la schiena su provo a stendere su giù ultimo ultimo su e bravissimi tutto bene? non si che stendere le gambe su sp stendere le gambe su sp